Assoluto, buongiorno a tutti, mi presento, sono Ada Zirpoli, sono direttore tecnico della divisione di calcolo strutturale geotecnico presso Arpaceas. Questo webinar è dedicato alle potenzialità del software Paratie Plus ed è un webinar dedicato ai cosiddetti prospect, quindi ai potenziali clienti, a coloro che ancora non conoscono il programma o hanno magari avuto solo modo di utilizzare la versione demo, ma magari anche a coloro che non conoscono neanche la nostra azienda. Per questo io devo rubare giusto 5 minuti con una breve presentazione aziendale. Innanzitutto, chi siamo? Arpaceas è stata fondata a Milano nel 1990 da un gruppo di ingegneri che in precedenza lavorava presso lo studio Finzi e Associati, con cui continuiamo a collaborare insieme agli altri, li chiamiamo noi, nostri cugini, che è la società CEAS. Tra l'altro la CEAS è rimasta proprietaria di Paratie Plus, che è oggetto proprio del webinar, fino al 31 dicembre del 2021, dal primo gennaio Arpaceas è diventata proprietaria e sviluppatrice, quindi cominciamo ad essere anche una vera e propria software house, acquistando da CEAS sia il Paratie Plus sia il solutore Xfinest. Oggi Arpaceas presenta un portfoglio che comprende software BIM, tra i più diffusi a livello mondiale, insieme anche a software per calcolo strutturale geotecnico come appunto Paratie Plus. La proposta si completa, adesso ci sarà proprio una slide dedicata, con i servizi per l'implementazione del BIM e la formazione specialistica per tutti coloro che operano nel settore delle costruzioni, quindi formazione a livello BIM ma anche a livello di calcolo. Quindi, risumendo, la nostra forza è quella di avere un'esperienza più che trentennale e da quelle due persone siamo ormai più di 60 persone, prevalentemente architetti ed ingegneri. Chi sono i nostri clienti? Le figure professionali che si appoggiano ai nostri servizi e ai nostri prodotti sono essenzialmente progettisti architettonici, geotecnici, infrastrutturali, impiantisti, strutturali e space planning designer. Tra i nostri clienti annuveriamo anche carpenterie metalliche, piuttosto che imprese di costruzioni, prefabbricatori, general contractor, fino ad arrivare a stazioni appaltanti, piuttosto che real estate owners. Ovviamente il portfoglio dei prodotti rispecchia le figure professionali che a noi si affidano, quindi abbiamo tutta una serie di prodotti di piattaforme di BIM authoring che vanno dal BIM authoring strutturale come il Tecla Structure, all'impiantistico come l'IDSK, dell'Alplan per l'architettonico, il Nuovo Point per l'infrastrutturale. Poi abbiamo il Trimble Quantum per la condivisione di dati infrastrutturali e la Mixed Reality insieme all'hardware Trimble XR10 che è il caschetto da cantiere per la realtà virtuale. Abbiamo software di condivisione di dati di Clash Detection come ad esempio il Solibri, CoBuild, Dirofus e StreamBeam e poi tutti i prodotti di condivisione dei dati, quindi prima tra tutti il Trimble Connect, però anche il Trimble Quadri e il BIM Plus per arrivare alla fine a quello di cui parleremo oggi, che è il mondo del calcolo. Quindi nell'ambito del calcolo strutturale noi proponiamo prima di tutto alcuni prodotti della suite Midas, in particolare il Midas Gen per il Building e il Midas Civil per il Bridge e il Midas NX come modellatore. Proponiamo il Modest e poi l'XFINEST come solutore, appunto quello di cui adesso siamo proprietari, come solutore per il Modest ma anche per altri prodotti pre-processori che non distribuiamo noi. Per il calcolo geotecnico invece il Parati Plus di cui parliamo oggi e i prodotti tasca, qua sono citati i Flac e UDEC ma sono tantissimi, andiamo al Flac 3D, il Tridec, il PFC, la PFC Suite e ce ne sono anche altri. Per quanto riguarda i servizi BIM, allora la formazione che noi proponiamo è a 360 gradi, partiamo dall'inquadramento normativo giuridico fino alle tecnologie per arrivare a metodi e procedure e poi continuiamo con le certificazioni, noi siamo organo di validazione presso l'ICMQ per il conferimento della certificazione da BIM Manager, BIM Coordinator, Specialist e il Common Data Environment Manager e oltre alla formazione vera e propria riguardo il BIM, noi ci poniamo anche come consulenti, come consulenti proprio diciamo nel senso che supportiamo il nostro cliente nell'implementazione del BIM nella sua azienda, non necessariamente con i nostri prodotti, ma con i prodotti che l'utente ha a disposizione e studiamo un percorso su misura per lui, scegliendo un progetto di kick-off, partiamo con un workshop introduttivo, facciamo una valutazione delle procedure, delle tecnologie del cliente, attuali del cliente, per poi proporre un'evoluzione sia delle tecnologie sia delle procedure e fino a portarlo al conseguimento delle certificazioni BIM. All'interno del Paceas c'è anche il BIM Development Center, che è essenzialmente il gruppo di sviluppo che si occupa della personalizzazione software, quindi dati, diciamo nasce più che altro per la personalizzazione, quindi dati software già esistenti, noi valutiamo in accordo alle esigenze del cliente, dei miglioramenti del software, magari creazione di impostazioni specifiche dei software, un'estensione delle funzionalità, ma possiamo anche fare dei piccoli sviluppi di applicativi stand-alone, pensiamo ad esempio, faccio degli esempi, il link tra il Tecla e il Midas, il link Tecla Modest, piuttosto che il link tra Midas e FLAC 3D, sono stati fatti appunto internamente da questo settore. Per quanto riguarda i servizi di calcolo, anche quello che più mi vede coinvolta, noi ci proponiamo come, soprattutto con servizi di affiancamento su progetto, sul progetto del cliente, facendo un'analisi innanzitutto delle competenze metodologiche del cliente e cercando di integrare le competenze normative e metodologiche del cliente, facendo un'analisi della complessità del progetto, parliamo sia in ambito strutturale e geotecnico, per arrivare a scegliere, a definire la strategia migliore di modellazione e di analisi e poi per arrivare fino alla corretta interpretazione dei risultati. Noi siamo esperti, non per vantarci, ma abbiamo scritto tre monografie e diversi articoli sulla validazione dei modelli di calcolo, oltre ovviamente a fornire supporto, grazie al fatto che proprio sviluppiamo i link, sull'interoperabilità tra software di calcolo strutturale e modellatori BIM. In generale, per tutti i prodotti, il nostro lavoro, chiamiamolo spiccio, quello di tutti i giorni, è fornire il supporto tecnico, l'assistenza tecnica, telefonica, via mail, piuttosto che una formazione di base avanzata, personalizzata, collettiva, videocorsi, seminari, formazione, veramente ne abbiamo di tutti i tipi, oltre all'affiancamento sul progetto che ho appena citato, nell'Arpacias Club, che è invece la pagina privata del cliente che entra con le sue credenziali, può trovare invece tutto il materiale che proponiamo gratuitamente, tipicamente le FAQ, adesso stiamo producendo moltissime video FAQ, o anche registrazione dei webinar passati, ad esempio. Noi come formatori collaboriamo anche con diverse università, anzi direi tantissime, sia università sia ordini degli ingegneri. noi contribuiamo alla scrittura delle normative BIM sia a livello italiano sia a livello europeo e niente, ci potete seguire sui nostri canali social, oltre che direttamente sul nostro sito. Allora, innanzitutto, diciamo subito una cosa, nella platea ci sono anche persone che sono già utenti Parate Plus e che conoscono il programma. Ripeto, come ho detto all'inizio, questo è un webinar dedicato ai non clienti e a chi non conosce il programma. Quindi è un webinar dedicato ad illustrare le potenzialità del programma, lo farò partendo da delle slide e poi mostrando un video sull'argomento in particolare degli scavi in ambito urbano, in particolare sulle controfodere, la modellazione delle controfodere per la modellazione degli scatolari interni in Parate Plus, quindi non andrò nel tecnico, diciamo nell'utilizzo proprio del comando, su come si usano i comandi. Per chi di voi fosse cliente e fosse interessato, il webinar sull'utilizzo dei comandi sarà la prossima settimana. Il 21 giugno ci sarà il webinar sulle novità della versione 22.1 che sarà proprio rilasciata quel giorno lì, il 21 alle 5 e mezza sarà il webinar e in quel caso lì illustrerò proprio il funzionamento, col programma aperto, delle nuove funzionalità della 21 come fosse un microcorso, ecco diciamo così, ma per chi già utilizza il programma. Ok, quindi vediamo innanzitutto, vabbè la scaletta che avevo pensato, è l'introduzione alla logica del programma, perché questo è fondamentale far capire all'utente che cosa potrebbe acquistare, cioè che cosa c'è dietro l'interfaccia che vede, facendo poi una panoramica di ulteriori funzioni, di varie funzionalità, delle principali funzionalità e poi passiamo alla modellazione delle controfodere che è l'oggetto del webinar di oggi. Allora, che cos'è Paratie Plus? Paratie Plus, come il nome stesso dice, è un programma per la modellazione, l'analisi e anche la verifica in accordo a NTC Euro, codice normativi americani, delle opere di sostegno flessibili, quindi paratie. Come vengono modellate queste paratie? Stiamo parlando di analisi sezionali, quindi analisi in deformazione piana, quindi stiamo parlando, il programma è adatto, ma si vede meglio in questa slide, non è un programma idoneo a studiare problemi in cui siano evidenti gli effetti tridimensionali, bensì è un programma adatto a studiare problemi in deformazione piana. Stavo dicendo che come viene detto questo, qual è lo schema che viene utilizzato? È un programma che schematizza il terreno o comunque l'apparatia come un elemento BIM, vabbè l'apparatia in realtà non è solo un elemento BIM, è una sequenza di BIM, dipende dalla mesh che viene scelta dall'utente, comunque diciamo come una BIM su suolo elastoplastico. Allora, vediamo subito nelle slide successive che questa definizione non sminuisce affatto il programma in quanto il motore è estremamente raffinato grazie a legami costitutivi raffinati ed avanzati sviluppati all'interno del, quello che adesso è il DICA, l'ex Dipartimento di Strutture del Politecnico di Milano, legami costitutivi delle molle che rappresentano il terreno. Che cosa sto, che cosa voglio dire? Allora, innanzitutto in presenza di, quindi il terreno, ogni singola porzione del terreno è schematizzata da una molla che è praticamente posizionata nel nodo della mesh della paratia. In presenza di doppia paratia, le due paratie tra loro non dialogano, quindi non dobbiamo pensare a un continuo bidimensionale, o meglio, ci sono delle situazioni in cui esiste un continuo bidimensionale, lo vedremo più avanti. In presenza di doppia paratia con scavo centrale, piuttosto che situazioni tipo cofferdam che si possono modellare, le paratie possono dialogare tra loro essenzialmente tramite i supporti che li mettono in connessione, quindi possono essere puntoni o solette, quindi in quel caso, vabbè, si viene a creare uno schema statico, proprio il telaio, tra due bim su suolo e l'astoplastico e dei puntoni o delle solette che le collegano. Per il resto, se no, diciamo che la paratia lavora singolarmente con le sue molle che rappresentano la stratigrafia che la circonda. Ho citato più volte molle elastoplastiche, quindi vuol dire che non possiamo pensare di utilizzare il programma nella configurazione finale che abbiamo in mente, perché? Perché in presenza di fonti di non linearità, siano esse di materiale, come in questo caso, potrebbero essere fonti di non linearità geometriche in generale, ma in questo caso parliamo di materiale e sappiamo benissimo che il risultato dipende dalla storia, quindi dipende dal susseguirsi delle configurazioni di carico. Di conseguenza, paratie, va utilizzato di fatto come una, come si utilizza, si imposta una construction stage, magari, in un programma di analisi strutturale, impostando quindi le varie fasi di lavoro e dedicando il più possibile una fase a modellare o comunque a inserire un'unica variazione al modello, cercando proprio di replicare il più possibile la sequenza costruttiva del cantiere, partendo dalla fase geostatica. Ecco, arriviamo a questa slide che forse è la più importante di tutte. Allora, è chiaro che quando si parla di modelli a molle si pensa subito a una semplificazione del comportamento del terreno. Certamente non è, dicevo, una modellazione al continuo, anche se grazie alla raffinatezza delle molle di paratie nella manualistica potete trovare dei confronti con, degli esempi di validazione con dei confronti fatti con Plaxis e con il nostro FLAC 2D, confronti perfetti. Dicevo, in cosa consiste questa, però dicevo, quindi è vero che di per sé la molla rappresenta una semplificazione, però affinché questi modelli forniscano comunque dei risultati che abbiano un buon accordo con l'evidenza sperimentale, è necessario, ed è quello che accade in paratie, che la rigidezza delle molle dipenda non solo dalle caratteristiche meccaniche del terreno, ma anche dal grado di vincolo della paratia e dalle sue caratteristiche di snellezza e deformabilità. Quindi questo porta ad avere la vera interazione terreno-struttura unita al fatto anche che abbiamo tutta una logica di costruzione per fasi del modello, dei risultati che dipendono dalla storia precedente. E quindi questo fa la forza del programma. E il grado di semplificazione del modello a molla, tipico del modello a molla, viene ulteriormente abbattuto, quindi il grado di semplificazione viene ulteriormente abbattuto, perché le leggi costitutive tengono conto di fenomeni come la storia geologica, l'OCR, che può essere calcolato in automatico dal programma a molla profondità, quindi lo stato tensionale iniziale corretto, il differente comportamento in fase di carico, quindi di fase di carico vergine oppure in fase di scarico-ricarico, il comportamento a rottura. Quindi, grazie a questi legami avanzati delle molle, siamo poi riusciti a creare esempi di validazione assolutamente soddisfatti con i confronti con modelli al continuo, come appunto dicevo FLAC 2D oppure PLAXIS. Accennavo prima il fatto che esistono delle situazioni in cui effettivamente la molla non esiste, ma esiste un continuo bidimensionale, sono due. Per chi di voi acquistasse il modulo VSP, il modulo di stabilità pendio, in questo caso il programma ragiona in 2D. Il calcolo, in questo caso però, non è non lineare, è un calcolo normalissimo all'equilibrio limite, i metodi implementati sono quello di Bischoff, Mork, Steinpreis e Jambu, possono essere utilizzate superfici circolari o anche delle polilinee, di cui viene calcolato il coefficiente di sicurezza. La ricerca delle superfici avviene mediante centro-raggio, il classico griglia di centro e range di raggi, però anche range di ingresso e uscita per le superfici. C'è la possibilità da quest'anno, con la versione 2022, di considerare la resistenza della paratia, resistenza finita della paratia, come vincolo aggiuntivo allo scorrimento delle superfici, oltre a elementi di supporto come geogriglie, pali e tiranti, e poi c'è la possibilità di accoppiare lo studio della stabilità globale con l'altro modulo che vede il 2D, che vede effettivamente il 2D, il mondo bidimensionale, che è il modulo Sipage. Il modulo Sipage è essenzialmente il modulo che viene utilizzato per un calcolo raffinato, essenzialmente finalizzato alla stabilità pendio, della filtrazione, per cui, come vedete, si può tener conto sia di pressione, delle pressioni per pendii sommersi, piuttosto che della spinta idraulica al di sotto in ogni punto della superficie di scivolamento, al di sotto di essa. E la slide successiva è proprio dedicata alle potenzialità del modulo Sipage, che è quello appunto di filtrazione, che permette di studiare appunto questi moti di filtrazione anche in presenza di pozzi e di trincei drenanti. Tra i vari risultati troviamo il calcolo della portata, che ci permette ad esempio il dimensionamento delle pompe per tenere in asciutto lo scavo, piuttosto che il Sipage può svolgere dei calcoli non lineari, iterativi, dove il profilo della freatica è un risultato, quindi ricrea il nuovo profilo della freatica a seguito della portata in monta. È possibile fornire condizioni al contorno simmetriche laddove vogliamo simulare solo metà problema, visualizzare il flow net, visualizzare delle freccine di flusso, come vediamo qui, calcolare in modo più raffinato le pressioni agenti sulla paratia, però vabbè, in genere il Sipage ha senso soprattutto per il VSP oppure per il calcolo della portata, per il dimensionamento delle pompe, e poi infine calcolare il coefficiente di sicurezza al sollevamento del fondo scavo. Questi sono i due moduli che accompagnano il programma. Prima di passare alle controfordere faccio un'ultima carrellata di altre potenzialità del programma. Dunque, è possibile switchare da... Allora, abbiamo detto che Paratie effettua un calcolo in una sezione in deformazioni piane, quindi essenzialmente considera la paratia per un metro, questa BIM di fatto ha uno spessore di un metro fuori piano. È possibile switchare a un elemento shell che ha un arco pari praticamente al raggio del pozzo circolare per un radiante. Quindi switchare a elementi assial simmetrici per lo studio di pozzi circolari. Poi, nel 2016, Cias ha sviluppato un nuovo elemento finito specifico per la simulazione dei pali acquinconce o palancole larsen. Apparentemente c'entrano poco l'uno con l'altro, ma perché? Perché in realtà questo elemento finito è stato pensato per simulare di fatto o c'è lo scorrimento tra due pezzi di paratie. Di paratia siano essi appunto le due gambe della paratia acquinconce, di palia acquinconce, siano essi semplicemente due pezzi di palancola lungo il giunto per simulare il gioco che c'è appunto tra i due pezzi, i due componenti della palancola. Questo elemento finito quindi è di fatto composto da due BIM che tra loro internamente hanno un vincolo che è uno scorrimento che è dotato di una rigidezza e di una resistenza, quindi un vincolo interno all'astoplastico e viene appunto utilizzato per questo tipo di simulazione. Poi negli anni successivi sono state anche aggiunte le verifiche strutturali a questo tipo di elemento. Adesso con la 2001 delle ultime novità era appunto il completamento delle verifiche strutturali a questo tipo di elemento. Poi è possibile, ci sono tre diverse formule sperimentali che collegano lo spostamento orizzontale ottenuto in modo corretto, in modo perfetto dal calcolo non lineare, collegano queste formule, questo spostamento orizzontale, a un cedimento verticale a tergo della paratia. Ce ne sono tre diverse a seconda essenzialmente del grado di vincolo della paratia. Questa è una stima, questo mettiamo sempre bene in evidenza che è una stima dei cedimenti verticali perché quando si parla dei cedimenti verticali a tergo della paratia noi siamo i primi a dire ho fatto loro un flac, cioè questo può dare certamente un'idea dell'ordine di grandezza. poi è possibile calcolare anche un cedimento verticale della paratia stessa, è possibile simulare con una riduzione delle spinte l'effetto arco su paratie di questo tipo. poi sia per i pali che si utilizzano all'interno del modulo VSP sia anche proprio per la paratia nel calco elasto-plastico è possibile dare, assegnare cerniere plastiche agli elementi strutturali, quindi volendo non solo, si può fare ad esempio un ice di pushover, sì, si può fare, perché è stata proprio implementata la cerniera plastica dell'elemento strutturale. Tutti i vincoli, in mente soprattutto tiranti, puntoni, possono avere, volendo un legame elasto-plastico e non solo infinitamente elastico. Per quanto riguarda il sisma, CEAS aveva sviluppato, qui siamo ancora nel 2010, una procedura sismica automatica, nel senso che è implementato in paratie una procedura che vuole fornire, si pone come una procedura intermedia tra il metodo di Wood che è più adatto a paratie molto rigide e il metodo di Mononobio-Cabe invece più adatto a paratie flessibili per fornire dei risultati in situazioni che poi sono la maggior parte, in situazioni intermedie. Qui purtroppo non posso dilungarmi perché su come è fatta questa procedura ci vorrebbe un webinar intero, la procedura comunque fornisce risultati di Wood o di Mononobio-Cabe in caso di paratie molto rigide piuttosto che paratie flessibili. Poi ci abbiamo già detto tutto l'impianto normativo implementato, è implementata una procedura automatica per l'ottimizzazione dell'infissione della paratia, c'è la possibilità di modificare le proprietà dei terreni durante le fasi di scavo, tipicamente utilizzata dai nostri utenti per simulare i tamponi di fondo, la modifica delle proprietà strutturali durante le fasi di scavo, questo riguarda proprio l'argomento delle controfodere, tipicamente questo viene fatto quando io, è l'esempio che vediamo adesso, tra poco, ho le paratie esterne, voglio costruire lo scatolare interno e voglio simulare una fase a lungo termine in cui il carico del terreno viene preso, cioè tutto il carico viene preso dallo scatolare interno, abbandona l'apparatia esterna e viene, nel senso, voglio simulare cosa accadrebbe se non fosse più funzionante l'apparatia master, l'apparatia esterna e questo posso farlo ad esempio abbattendo le proprietà strutturali dell'apparatia master, dell'apparatia esterna. Abbiamo ovviamente l'opzione landing option che è per ripristino delle pressioni idrauliche al termine della costruzione dell'opera, quindi con tipicamente ripristino della pressione al di sotto della soletta di fondazione conseguente diciamo al battente idraulico che però che si trova a monte e vi ho già introdotto di fatto la simulazione delle controfodere. che poi è un po' l'argomento su cui volevo dilungarmi un po' di più oggi. Allora scavi in ambito urbano si intende appunto la possibilità col metodo cioè la possibilità di simulare il metodo il metodo top down e poi bottom up cioè di diciamo scendere con delle paratie esterne tipicamente delle berlinesi sostenute magari da puntoni durante la discesa per poi risalire costruendo una soletta di fondazione costruendo degli scatolari quindi quelle che ho chiamato controfodere costruendo degli scatolari e sostituendo rimuovendo magari i puntoni temporanei con delle solette in elevazione fino a tornare alla quota alla quota zero. Questo in paratie plus si può fare. In particolare è possibile inserire a fianco alla paratie principale degli elementi secondari che dialogano tra loro attraverso i nodi della mesh i nodi sono posizionati esattamente alla stessa zeta se l'utente fornisce due mesh diverse o comunque è un aggiustamento che viene fatto internamente dal programma senza che l'utente se ne accorga comunque su entrambe le paratie si trovano nodi alla stessa altezza la paratie principale quindi quella esterna ha i nodi chiamati master che sono quelli cioè che comandano sui nodi slave e i nodi appunto dello scatolare interno sono nodi e sono appunto nodi dipendenti dal nodo master come dialogano tra loro le due paratie non c'è un comportamento a taglio non c'è una relazione una dipendenza a taglio cioè a taglio sono libere di scorrere tra loro quindi dialogano attraverso solo nella direzione normale normale e questa direzione normale potrebbe essere solamente di compressione se viene attivata l'opzione della non linear gap può esserci il distacco della paratia slave questo ovviamente comporta che devo questo poi comporta molte richieste di assistenza perché spesso capita che viene utilizzato il gap non linear senza mettere una soletta o un puntone che tenga premuta la controfodera contro la paratia master e quindi poi solitore non converge però questi sono altri problemi è chiaro che la modellazione deve essere fatta in un certo modo questa opzione c'è comunque adesso nel video che vi mostro l'abbiamo utilizzata e si vede in alcuni si vede poco perché comunque ho fatto una struttura abbastanza rinoscatolare abbastanza compatto e rigido però in alcuni punti adesso vedremo proprio lo split delle due deformate perché in alcuni punti i nodi slave si staccano un'ultima cosa prima di passare al video quindi passare proprio a vedere l'utilizzo del programma inizialmente qui in mezzo cosa c'è in realtà questi nodi in realtà sono coincidenti cioè nel senso che non è che qui dentro c'è una biella o qualcosa è di fatto una sorta di un trick matematico inizialmente esisteva solo il moltiplicatore di Lagrange che forniva di fatto un contatto infinitamente rigido tra questi due nodi che poi in realtà sono posizionati nello stesso punto una delle novità della versione 22 è stata è stato l'inserimento di un algoritmo che permettesse un certo grado invece di un certo grado di rigidezza diverso da infinito perché nelle zone diciamo in cui terminava la fodera in questi punti qua in cui terminava la fodera rispetto alla paratia master a causa del contatto infinitamente rigido si venivano a creare a volte in alcune situazioni dei picchi di taglio assolutamente irrealistici quindi abbiamo abbiamo migliorato nella 2022 questo questo algoritmo vediamo adesso il video dove si mostra proprio l'utilizzo del programma io ogni tanto lo fermerò perché poi mi verranno in mente alcune cose da dire allora va beh innanzitutto fermo subito il video questa è l'interfaccia del paratia e quindi va bene la classica interfaccia abbiamo il menu il trimenio sulla sinistra che però viene ormai cioè il programma è talmente interattivo che in genere viene utilizzato solo come controllo sono tantissimi anni che non lo vedo più utilizzare come proprio per mettere inserire degli elementi oppure modificare degli elementi e abbiamo poi il menu che di fatto è da sinistra verso destra segue un po' la logica della costruzione del modello per aiutare l'utente nella appunto nel seguire diciamo i passi corretti nella costruzione del modello in questo momento io ho di fatto aggiunto il secondo asse perché voglio appunto creare la doppia paratia quindi ho aggiunto prima di tutto l'asse su cui poi andremo a far insistere l'elemento strutturale della paratia adesso sto semplicemente allargando un attimo gli estremi del modello che erano troppo troppo stretti così perfetto quindi adesso semplicemente vado a selezionare l'asse e ad aggiungere la seconda paratia adesso io lì ho lasciato la paratia di default che è una sezione rettangolare in ca di 0,60 praticamente adesso vado a sostituirla con una berlinese quindi come vedete in archivio posso fermo ancora un attimo l'archivio è molto vasto come potete vedere però una volta scelto anche dall'archivio c'è nulla mi vieta di andare manualmente a modificare la parte in CA scusate in CA la parte in calcestruzzo dove praticamente posso scegliere pali affiancati pali affiancati col terzo palo in mezzo piuttosto che la sezione AT avete visto abbiamo il catalogo dei materiali il catalogo dei materiali dalla finestra dei cataloghi può essere arricchito con tutti i materiali che voglio materiali utente aggiungerne degli altri e poi qui posso aggiungere il profilato in acciaio che preferisco e tutti i dati vedete sono aperti quindi posso andare a modificare il diametro il passo questo lo sto dicendo perché non so per dire semplicemente che non sono legata all'archivio che vedo qua sulla sinistra tutto qui ok quindi scegliamo per l'apparatia master la Berlin questa già impostata 193 per 12 a passo 50 ok e adesso lo vediamo anche graficamente e l'andiamo a scegliere anche per l'altra l'altra paratia perfetto benissimo ok quello che possiamo fare adesso come dicevo nella prima fase viene di fatto impostata la fase giustatica quindi definita adesso non posso per motivi di tempo dilungarmi su come poter fare una stratigrafia complessa quindi lascio uno strato che è la sabbia che è quella che vedete che vedete adesso metto giusto dei carichi dei carichi di tipo strip che sono questi qua che tipo strip vuol dire essenzialmente che sono dei carichi che sono finiti nella larghezza sono dei carichi che posso scegliere di cui posso scegliere la posizione a differenza del sovraccarico che vedo che metto adesso che invece è il il carico infinitamente esteso a simulare ad esempio un terreno che non vado a modellare quindi questa è la differenza tra i due carichi al solutore sono passati diversamente il carico strip che vedevamo prima viene passato secondo la teoria del similisfazio elastico di Bussinesc e diciamo che l'entità della sovrappressione data sul terreno dipende dall'entità del carico dalla larghezza del carico dalla distanza dalla paratia e dalla profondità del carico mentre invece questo qui che ho messo adesso il star change che è quello infinitamente esteso semplicemente è il classico carico che analizzavamo anche a mano al corso di geotecnica per cui semplicemente mi trasforma un andamento triangolare delle sigma in trapezoidale dove il valore in testa è proprio uguale al valore del carico questa è una differenza inoltre dicevo il star change ha di fatto no in realtà tutti e due no quello tutti e due quindi diciamo queste sono le principali differenze tra queste due tipologie di carico l'ho anche un po' sottolineato perché le novità per chi è cliente per chi usa paratie le novità della 22.1 che vedremo settimana prossima settimana prossima riguardano tantissimo 90% i carichi strip ok allora abbiamo aggiunto una seconda fase dove abbiamo fatto uno scavo ovviamente vabbè io l'ho fatto graficamente come dicevo il programma è molto interattivo nulla mi vieta cioè se c'è bisogno di fare doppio clic sulla quota sulla linea superficiale e andare a settare proprio la tabellina con le quote esatte eventualmente anche quote di punti intermedi per creare un profilo superficiale regolare qui l'ho fatto velocemente un'altra cosa che non ho detto il profilo superficiale come anche gli strati anche il profilo di falda anche gli strati intermedi possono essere importati ad xf quindi ho massima libertà ok quello che ho fatto adesso questo magari lo rifaccio vedere un secondo perché stavo parlando ho aggiunto un'altra paratia eccola qui lui mi aggiunge sempre quella default quindi in calcestruzzo di 60 cm di larghezza è lunga da 0-15 però poi io posso andare a posizionarla allungarla a strecciarla come voglio io fino a formare l'elementino che mi interessa l'ho fatto a sinistra lo faccio anche a destra e fino adesso messo così semplicemente sono due elementi uno sopra l'altro e semplicemente le rigidezze si sommano ma adesso io vado a dire che questo adesso gli sto dando la sezione ok la lascio la lascio la lascio il classico CA di 60 cm di larghezza in questo modo gli sto anche attribuendo un'armatura poi per le verifiche ok va bene questo ok adesso si può anche vedere questa è l'armatura di default che poi posso modificare e questo va bene è la sezione armata ma la cosa importante è che adesso vado ad attivare il flag eccolo qui elemento sleeve questo questo mi permette di switchare a quella a quella logica che vedevamo nel solutore cioè i due elementi non sono più semplicemente come due elementi sovrapposti di cui il solutore vede la somma delle rigidezze ma sono due elementi che dialogano tra loro attraverso solamente attraverso la direzione normale e qui gli sto dando ad assegnare la famosa proprietà del gap notention cioè del faccio una pausa gap notention cioè poi gli dico che non possono compenetrare ma possono staccarsi qui si vede proprio la scelta dell'algoritmo il penalty piuttosto che Lagrange il moltiplicatore lagrangiano che praticamente mi dà un contatto infinito il penalty mi dà un contatto minore di infinito io posso scegliere qui una percentuale che mi dice quanto in pratica quanto sono distante da un contatto perfettamente rigido l'ultimo flag anche molto interessante vado un attimo avanti l'ultimo flag chiudo la freccina qui ho scelto penalty la grange è quello che mi dà la rigidezza di contatto infinito ok l'ultimo 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 flag è anche molto interessante attiva carico dell'acqua nell'intercapedine nel caso di paratie con controfodere questo cosa vuol dire che io posso scegliere se praticamente la paratie master è è permeabile oppure no nei confronti appunto della della pressione dell'acqua quindi se la pressione dell'acqua debba agire sulla paratie master e poi vabbè attraverso diciamo lo schema va bene arriverà in qualche modo anche le azioni arriveranno in qualche modo anche sullo scatolare o se invece io immagino la paratie master come impermeabile il carico dell'acqua gravi direttamente sullo scatolare interno questo poi posso unirlo al fatto che posso creare come dicevo prima uno step finale in cui ho abbatto magari il modulo elastico dell'apparatia master e immagino una situazione in cui l'apparatia esterna non lavori proprio più quindi ho l'acqua e il terreno tutti i carichi che gravano sullo scatolare interno ok qui qui scelgo il penalty metto un valore intermedio di 50 e attivo appunto questa possibilità benissimo ok qui va bene qui io avevo lasciato la falda di default però giustamente se voglio vedere l'effetto dell'acqua sono un attimo tornata indietro nelle varie fasi ad alzare il livello di falda vado un attimo avanti ok benissimo mettiamo un puntone in testa quindi un vincolo il puntone qui è fondamentale perché ho attivato il gap non linear quindi se non gli metto il puntone le due paratie cascano cioè le due controfodere cascano giù ovviamente deve esserci anche l'opzione che adesso la vediamo di collegare il puntone all'elemento slave quindi collegare il puntone internamente all'elemento slave cioè alle controfodere perché volendo c'è la possibilità di collegare il puntone cioè di bypassare le controfodere e collegare il puntone agli elementi master alle paratie esterne però in quel caso lì non me ne faccio niente del puntone perché deve tenere su i due pezzetti di controfodera che io sono andata a simulare quindi adesso qui ho definito la sezione del puntone ok e poi attivo esatto avanzate elemento slave quindi adesso a dispetto della grafica che rimane sempre la stessa però quel flag mi assicura che il puntone preme contro le controfodere aggiungo un'altra fase per proseguire con il mio scavo ok e devo selezionare il muro e aggiungo un nuovo pezzo di controfodera ok la possibilità vabbè quanto queste cose più o meno le avete già viste quindi vi racconto un po' di altre cose la possibilità di lasciare la paratia senza senza nodo slave cioè senza non come elemento slave ma così come una seconda paratia come elemento master serve non tanto per sovrapporre le paratie ma serve per ad esempio cambiare delle sezioni durante le varie fasi cioè magari per simulare quella che è la nascita morte quindi magari nel corso del del mio cantiere devo demolire delle parti di paratia e sostituirle con un altro un altro tipo di sezione e quindi in questo caso io non metto l'elemento slave perché si parla sempre di paratia master è sempre la paratia principale che semplicemente cambia sezione quindi nasce per questo poi l'elemento slave in realtà è nato molto dopo in paratie qui vado a posizionare il secondo puntone e che collego all'elemento slave ok benissimo ecco un'osservazione il il singolo il puntone che sta qua in alto basta a tenere su la questo pezzo di controfodera basta perché di default di default il programma assegna la continuità tra questo pezzo e il pezzo sotto c'è la possibilità di assegnare degli svincoli ma assolutamente gli svincoli a taglio e a momento però di default c'è la continuità e quindi in realtà questo pezzetto sopra di controfodera è tenuto dal dal puntone in alto e dalla continuità con l'elemento sotto che a sua volta è tenuto da questo puntone e poi dalla dalla soletta di fondazione adesso in realtà sto sto già mentre parlavo mi sono accorta stavo già risalendo perché avete visto che praticamente stavo ho già sto risalendo perché ho costruito la soletta di fondazione vedete che ho eliminato perché si vede in trasparenza il puntone e l'ho sostituito con la soletta in elevazione mi fermo un secondo notate che la soletta io posso fornire sia un carico dead load che è quello che abbiamo visto un secondo fa nella finestra proprio di definizione della soletta sia da questa tabella un carico di tipo live che può essere questa è una delle ultime novità anche parziale sulla soletta e variabile linearmente sulla soletta inoltre tutti gli elementi tutti cioè le paratie la soletta e il puntone i puntoni sono attivabili e disattivabili nelle varie fasi con un flag quindi è per questo che io posso scendere e poi risalire con la mia costruzione demolizione e poi costruzione e adesso vado in un'altra fase disattivo l'ultimo puntone e lo sostituisco con l'ultima soletta quindi semplicemente tolgo il flag dall'ultima fase ok e aggiungo l'ultima soletta benissimo va bene e niente poi io qui avevo concluso facendovi vedere come l'inserimento del sisma essenzialmente quindi opzioni sisma includi azione sismica mi collego direttamente alla mappa vabbè niente di che questo più o meno scelgo un posto totalmente a caso scelgo ntc fornisco lo spostamento residuo dopo il sisma e posso dare i valori beta ed alfa da correlazione mi fermo un attimo posso decidere se applicare la spinta fuori terra o all'intera paratia se applicare o meno la spinta alla Westergaard se considerare il contributo verticale e poi il metodo di calcolo qua rientra la famosa procedura automatica a cui accennavo prima comunque vabbè qui si tratta chiaramente di uno scatolare molto rigido quindi ho utilizzato il metodo di Wood ok questo che vedete è il contributo della spinta alla Westergaard la spinta sismica è questa rossa piccolina qui questa col contributo verticale e questa è la spinta alla Westergaard e poi io qui avevo già plottato alcuni risultati e qui adesso qui ripeto lo scatolare è venuto particolarmente rigido quindi giusto in questo pezzettino qua si vede lo scostamento tra la paratia master e la paratia slave quindi un po' di distacco poi per il resto si comporta in modo abbastanza solidale e avevo plottato già preparato già i plottaggi per ad esempio mostrarvi i diagrammi dei momenti in tre pezzi ciascuno la controfodica superiore la controfodere inferiore e la paratia master in pratica se avessimo aggiunto un'altra fase dove abbattevamo il modulo elastico della paratia master vedevamo questo momento di fatto andare a zero e di incrementarsi incrementare certamente la pecolo non è detto incrementare i momenti sulle due controfodere e questi sono invece i tagli quindi poi è possibile avere anche dalla versione 2022 le azioni no dalla 2021 anche adesso ho ricominciato da capo niente dalla 2021 anche le azioni assiali negli elementi e niente essenzialmente le verifiche giusto per concludere le verifiche giusto concludo un secondo noi abbiamo visto l'apparatia master costituita da era una berlinese con un profilato circolare l'apparatia slave scatolare interno con elementi rettangolari in CA il programma esegue le verifiche su tutti gli elementi in CA siano essi palli in CA piuttosto che sezioni rettangolari o anche sezioni AT esegue le verifiche sui profilati in acciaio sulla carpenteria in acciaio che non ricada in classe 4 questa sarà una delle prossime che vogliamo assolutamente introdurre la possibilità di fare anche questo tipo di verifiche qua vengono verificate le palancole ma non quelle marittime cioè non i classici profili un po' particolari utilizzati nelle opere marittime e poi posso dire che le verifiche vengono fatte sia agli stati limite ultimi che di esercizio dove vengono verificate le tensioni e la fessurazione per gli elementi in CA cioè se volete provare la versione demo di Paratie Plus è full quindi trovate anche il modulo VSP il modulo C page ancora per un po' sarà incluso nella versione base il modulo VSP invece è un modulo aggiuntivo comunque la versione è full la versione demo è full e dura 30 giorni la trovate al nostro sito www.arpaceas.it cliccando su calcolo e poi su Paratie Plus io vi ringrazio molto siete stati molto numerosi tra l'altro quindi vi ringrazio per la partecipazione per ogni evenienza ci sentiamo grazie 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 grazie